Ciao a tutti! Eccoci qua! Oggi 4 giugno, come promesso, vi sveleremo qual è il video migliore del Fuoco e Fiamme Contest. Ne abbiamo ricevuti tantissimi, li abbiamo guardati, siamo contenti di averne ricevuti così tanti e abbiamo deciso di premiare l'idea migliore, lo spirito migliore. Quindi si aggiudica il Fuoco e Fiamme Contest e quindi la possibilità di vedere un nostro show direttamente dal palco con tributo audio suspense. Basta con il contributo suspense dalla regia. Colui che si aggiudica, anzi, coloro che si aggiudicano il Fuoco e Fiamme Contest sono Tommaso, Daniele e Giovanni! Mi raccomando ragazzi, iscrivete a pressetfinley.it, mandate le vostre mail e il nostro staff vi contatterà e prima possibile verrete al nostro concerto e lo guarderete direttamente al lato palco insieme a noi. Quindi sono loro che con In The Name Of Friendship si aggiudicano la possibilità appunto di assistere al nostro concerto direttamente dal palco. Gravi tutti comunque, un saluto e un bacione a tutti. Ciao! Ciao!